Io ho seguito quel bellissimo dibattito di via Facebook, non ho potuto fare di più che l'anno di sapere. Mi sembra che questa sia una svolta, Napoli in questo modo insomma, non per farla troppo a cosa, però ci si avvicina a Milano con Cassa Depositi e Prostiti che viene a mettere una sede qua, con tutti questi progetti che stanno, si può ridurre un po' anche che è Milano che si avvicina a Napoli, io credo che Napoli e Milano non c'è una che è prima e una che è seconda, devo dire che questo è il bello di questo incontro, questo è il bello dell'incontro tra me e Sala, che entrambi ci riconosciamo dei punti di contatto, dei punti anche di differenza che però incuriosiscono ancora di più questa relazione tra città e che entrambi riconosciamo che Milano ha qualcosa in più rispetto a Napoli e Napoli ha qualcosa in più rispetto a Milano e quindi stando insieme credo che contribuiamo a far crescere il paese, c'è il messaggio forte che le città sono il motore di sviluppo, nelle città si produce l'economia reale, nelle città si ha il polso della felicità o dell'infelicità dei nostri abitanti, i sindaci conoscono quali sono i bisogni, i desideri e anche i sogni e forse è anche un segnale forte che vogliamo dare al paese che deve smettere questa stagione di appesantimenti, taglie, vincoli che impediscono alle città di volare ancora di più. Io sono molto soddisfatto dell'incontro di Iri a Milano, anche del riconoscimento che Napoli, ma aggiungo anche la nostra esperienza politica che hanno avuto a Milano perché non è un caso che si fa oggi per la prima volta un dialogo così forte e così concreto tra due città perché evidentemente ci sono due sindaci anomali come è stato detto ieri a Milano, non da noi ma da alcuni che sono intervenuti, rappresentanti delle principali istituzioni del mondo economico, sindacale, culturale della città di Milano. Quindi io sono molto soddisfatto, ci siamo presi degli impegni importanti, entro l'anno fare delle cose insieme sulla cultura, sullo sport, su eventi, quindi credo che questo farà bene a Napoli, farà bene a Milano e farà bene all'Italia.